In occasione dell'uscita suo primo libro autobiografico Chiamatemi Maestra, Alessandra Celentano ha raccontato a verissimo i momenti più significativi della sua vita, segnata dai disturbi. In occasione dell'uscita suo primo avrò avuto 14 o 15 anni. Avrò avuto 14 o 15 anni. Non sei in forma, fai molta più fatica. Una volta però c'era molta meno attenzione al sistema alimentare. Ho fatto tutte le diete possibili. A un certo punto però, Celentano è riuscita a rendersi conto delle conseguenze negative delle sue scelte alimentari. Questo momento l'ho superato in brevissimo tempo perché ho capito che era una... A un certo punto però, Celentano è riuscita a rendersi conto delle conseguenze. Ho reagito, come cerco sempre di fare con i miei ragazzi, cerco di farli reagire. All'inizio è stata quasi una liberazione. Un altro momento complicato della vita di Alessandra Celentano è stata la malattia della mamma, a cui è stata vicina fino all'ultimo giorno. Rifarei tutto, e anche di più, ma non è mai abbastanza. Dobbiamo restituire ai nostri genitori tutto quello che hanno dato a noi. È un dovere e non possiamo sottrarci a c'è. Di seguito il video di Alessandra Celentano a Verissi.